Naturalmente voglio confermarti che anche quest'opera era alla Galleria Angelica dal 6 al 16 settembre 2020. Possiamo dire che abbiamo scelto quelli che facevano parte un po' di quella mostra lì, in effetti. Beh sì, andava riconosciuto che la loro lesione è stata più che gradita. Astrattismo, ma è l'unica cosa che fa Masì all'astrattismo? No, perché fa dei bellissimi ritratti, paesaggi. Questi sono quelli che chiaramente fanno parte un po', chiamiamolo dell'astratto del lavoro di Piero Masìa, ma sono gli ultimi lavori che presenta. Ma nel suo bagaglio personale ci sono dei bellissimi paesaggi e delle bellissime... C'è anche l'informale. Bravo, bravo. Voglio dire questo per fare una sorta di promemoria per gli amici che ci guardano. Perché quando vi piace un artista e vi piace quel quadro che state vedendo, come sta accadendo adesso, no? Magari qualcuno dice, ma vorrei vedere qualcos'altro. Noi possiamo anche utilizzare i mezzi che si usano tutti i giorni, dal telefonino al computer, quindi l'email o il messaggino WhatsApp, per farvi vedere le disponibilità che abbiamo. Anzi, ci agevolate il lavoro. Basta contattarci telefonandoci o scrivendoci un messaggio, come vedete da sovraimpressione. Ma la cosa di cui dobbiamo parlare invece... 2023, centralità dalla quale si diramano queste diagonali e colori azzurri, verdi, gialli, eccetera. Il tema costruttivo di Masia è più o meno... Anzi, è più rispettato che mai. Però generalmente ci sono queste squadrature, perché lui è uno preciso. È estremamente preciso. Io sogno il giorno in cui farò un quadro enorme. Lui arriva a 70-100, 100-120, si ferma. Però sogno una sua opera gigantesca. Ma prima o poi ci riuscirai la farà. Lo dici? Cioè, con caratteristiche tecniche non ha difficoltà a farle. Eh, probabilmente per... È una scelta sua. Ma sì. Sì, è una scelta sua. Però gradevolezza tanta. Poi ho visto tutto il periodo dedicato ai segni zodiacali. Il periodo dedicato, insomma, il ciclo di opere dedicato a un'astrazione che prendeva le mosse anche dalla musica rock, dalla musica pop, eccetera, eccetera. Perché lui sapete che è un batterista e un musicista, quindi artisti a tutto tondo, a 360 gradi. I quadri che impressionano sono quelli che hanno una forza prorompente. Qualcuno dice, ma perché non dite mai i prezzi? Perché ve li sveliamo quando voi ci svelate la vostra veramente forma di interesse. Capita, no? Ci scrivono, ci chiamano, eccetera. Meno male che sono sempre tanti che chiedono informazioni. E uno pensa, dice, ma chissà che prezzi, eccetera. No, signori, noi stiamo facendo una politica molto semplice, che è quella di riuscire ad accontentare tutti con delle collocazioni in spazi di prezzo che possano essere abbordate da diverse persone. Perché? Perché ci seguite in tanti. Questo va detto. Assolutamente. Brindiamo nei dieti carici è grande 60x80, però vorrei anche un parere o un'illustrazione tua su quest'opera. Ma allora, per quanto riguarda il parere, io non faccio difficoltà a parlare in modo benevolo per quelli che sono i lavori di Pieromasia. Semplicemente perché, come abbiamo sempre detto, gli artisti che selezioniamo per Laboratorio H sono artisti che prima di tutto devono piacere a noi. Per cui, se piacciono a noi, ci auguriamo che possano piacere anche agli artisti, al pubblico. Ma semplicemente perché? Perché si riesce a parlare in modo un pochino più esaustivo, con una certa verve, di un'opera della quale hai una caratteristica, diciamo, un po' di piacevolezza da parte personale. E questa opera qui, tra l'altro, è pubblicata, bravo, vedi come sei stato bravo, è molto attento il caro Giorgio, molto attento il caro Giorgio. Opera pubblicata sull'annuario 2024, annuario H, che naturalmente vi ricordiamo essere disponibile, basta inviare una mail, ve la invieremo, a 50% del prezzo di copertina. Opera di Pieromasia, contrassegnata dal numero 12, quando l'abbiamo presentata, l'abbiamo detto, è grande, 60 per 80, quello che colpisce maggiormente, secondo me, la somma dei colori, tra l'altro, è pubblicata sull'annuario H del 2024. Per cui, qualora acquistasse l'opera, vi viene dato in omaggio anche. In questo caso, vi viene dato in omaggio l'annuario. Hai capito. Questo è un piccolo omaggio da parte della Casa di Dirice, insomma, che soprattutto per dove ci sono le opere pubblicate, ci sembra quanto meno doveroso. Bello. Anche questa è stata la Galleria Angelica di Roma e abbiamo anche, riassunto l'opera di Pieromasia numero 12, per la memoria di chi ci vuole seguire con un minimo di attenzione. Poi, astrattismo. Ma è l'unica cosa che fa Masia, l'astrattismo? No. No, perché fa dei bellissimi ritratti, paesaggi. Questi sono quelli che chiaramente fanno parte un po', chiamiamolo dell'astratto, del lavoro di Pieromasia, ma sono gli ultimi lavori che presenta. Ma nel suo bagaglio personale ci sono dei bellissimi paesaggi e delle bellissime... C'è anche l'informale. Bravo, bravo. No, voglio dire questo per fare una sorta di promemoria per gli amici che ci guardano. perché quando vi piace un artista e vi piace quel quadro che state vedendo, come sta accadendo adesso, no? Magari qualcuno dice, ma vorrei vedere qualcos'altro. Noi possiamo anche utilizzare i mezzi che si usano tutti i giorni, dal telefonino al computer, quindi l'email o il messaggino WhatsApp, per farvi vedere le disponibilità che abbiamo. Anzi, ci agevolate il lavoro. Basta contattarci telefonandoci o scrivendoci un messaggio, come vedete, da sovraimpressione. Ma la cosa di cui dobbiamo parlare invece, 2023, centralità dalla quale si diramano queste diagonali e colori azzurri, verdi, gialli, eccetera. Il tema costruttivo di Masia è più o meno, anzi, è più rispettato che mai, però generalmente ci sono queste squadrature, perché lui è uno preciso. È estremamente preciso.